Ah hi people of YouTube, welcome to a new episode of Saintro 3 Remastered, a parte gli scherzi benvenuti in questa nuova puntata dopo il finale del gioco. Sono passati veramente anni da quando ho giocato i DLC di Saintro 3, devo essere sincero perché effettivamente a me piaceva sempre la storia originale di Saintro 3, i DLC mi sembravano qualcosa di un po' aggiunto, sì per carità, ma niente che mi interessava al tempo. Oggi invece siamo qui proprio per riprenderli, ma cambio di abiti prima. Devo dire che così forse sembriamo veramente degli attori, soprattutto dopo il finale, anche perché oggi andiamo più veloci, più intensi, a un chilometro e tre da qui. Linchia, hai voglia che sentito parlare di te? Certo. Certo, sei già una storia, ma pensi di mortalizzare te stesso sull'escrimo. L'ha bella pensato, certo? E si spiega dal studio e puoi vedere il script. Va bene, arrivo subito allora. Che bella che è sta macchina come l'ho fatta. Minchia. Ed eccoci arrivati agli studios. I'm gonna kill that son of a bitch. Bel vestito. I'm gonna kill that son of a bitch. I'm gonna kill that son of a bitch. Ciao Jenny. È certo. Ragazza, sei messa bene? Non è. On camera è più a Sean, dear, or Pierce thing. I'm having a hell of a time wrapping my head around this script. Is this script a problem? Just say the word baby, we'll toss it. No, but it's cool. I'm just... I'm gonna need cue cards like a motherfucker. Brilliant. It's so fucking cinema verite. You're gonna kill it. Questo è molto probabile. Who is this extra and why is she talking to me? Oh, Mr. Jen, I'm playing Quilana. Really? I thought we were getting a name for Quilana. Uh, no, just me. E adesso la licenzia. Oh, great. Look, Missy McNobody over here isn't gonna bring you down. I promise. Madonna mia, che pezzo di merda. Comunque non ti preoccupare, ragazza. Non ti licenzeranno finché sei con me. Ok. Uh, bene. Questa è vero. È assolutamente vero che siamo dei talenti. Me, 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 me. Action! Ahia, che dolor. Abbiamo investito uno. Devo investire qualcuno. Devo investire qualcuno. Ho appena passato qualcuno. Fa niente. Yeah, Missy McNobody. Ok, ora ti charge il plato di gun. Sto arrivando. Oh no, ho ucciso un cameraman. Ecco fatto. Puff. Ah, mancato. Oh, però non me lo ricordavo iniziasse così il fill. Questo DLC. Sincero. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo, aspetta che arrivo. Ecco fatto. E addio anche a te. Posso prendertela la pistola? Direi di no. Va bene, usiamo il mitra. Ecco fatto. E vi è anche te. Ehi, tutto a posto? Quella è una... È una flashbang, ok. Bella pistola. Battaglia. Ok. Va bene. Facciamo il signorino contento. And... Action. Ogni volta che ti lanci da un paracadute con sto gioco, finisce sempre così. Bello, però all'inizio così, dai. Perfetto. Perfetto, madonna mia. Oh, ho ucciso un altro cameraman, pertanto vabbè, ormai. Sai che ti dico? Sti cazzi sindacati. Ah, ma aspetta. Ecco, perfetto. Stavo dicendo. C'ho il fucile quello con lanciagranate e c'ho le granate infinite, quindi... Beccatevi questo, stronzi. Guarda com'è messo comodo questo. Andiamo. Beccati questo, stronzo. Perfetto. Uh. Chi è che grida? Perfetto. Distrutto. Oh, calmo che stavo andando a fuoco. Beccati questo. Allora, calmi tutti, calmi tutti. Fatemi recuperare un attimo vita. C'è qualcuno che spara qui? Ecco, fatto. Beccati questo. Puff, colpito. Ok, cambiamo. Mettiamo questi. E saliamo di sopra. Dove sei? Belli però sti mitre, eh? Complimenti. Oh, calmo. Ecco fatto. Scusami. Non lascio loro prenderti te fuori, princesa. Grazie mille per salvaremi. Tranquilla. Ma come fa una principessa aliena... Scusami. Come fa una principessa aliena a sapere usare un elicottero? Ma scusami. Sali però? Eh, che cavolo. Scusami. 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 Non so come ci siamo salvati. Oh, mio Dio. Sei ok? Eh, voglia. Ma sono ancora qui. E... Cotto. Bellissimo. Poi di andare con i punti e improvvisare, ma... Mi piace. Scusami. 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 Grazie mille, signor Jen. Scusami. Io continuo ad ucciderli perché almeno mi aumenta l'obiettivo che sicuramente ci guadagno un trofeo. Minchia. Oh, entra. Princess? Me ne mancano due, dai. Il trofeo lo facciamo tranquillamente. Da un certo punto di vista però mi dispiace anche ucciderli, dai. Vabbè. Ah, eccolo là, l'elicottero. Eh, won't give up. Porca troia. Ok. Elicotteri andati. Ho cercato di distruggere subito gli elicotteri perché mi ricordavo fossero un obiettivo da fare. Ecco fa... Uh, calmo. Mi ricordavo fossero un obiettivo da fare. Hai capito la principessa aliena che appena arrivata sulla terra già guida come una professionista. Oh, comunque... Ben organizzata la truppa, eh. Eh, dai. Oh, e che cavolo. Guarda quant'azione. Ma quanti soldi... Ma è caduto in acqua, poverino. Quanti soldi, eh. Non vedo altri nemici, però, eh. Questo coso non può andare più veloce. Forza. Spingi l'acceleratore, ragazza. Ecco qua. Oh, se ci pagano... Dov'è l'elicottero? Oh. Complimenti. Cos'è? Ah, le navi aliene. Oh. Ah, no, aspetta. Ora mi ricordo qual era l'obiettivo. Non era... Distrugge l'elicottero, ma era distruggere qualcos'altro. Ok. Era distruggere tutte cose aliene, forse. Ma... C'è del fumo verde. Non so se era la cosa... Stavo dicendo, non so se è la... La zona degli zombie o è il film. A questo punto. Non riesco a beccarlo. Dai, carica! Ecco fatto. Ce ne mancano altre 17. Dovrei... Ma dai! È sbattuto contro il palo. Che miseria. Che bombe che tira. Eh, vorrei riuscire a distruggerlo. Se riuscissimo a mirarlo, però. È vivo? Eh, vai. Oh, no. Ce n'è già un altro. Eh, stai buono. Ok, è andato. Ok, me l'ha contato. Siamo ancora filmando. Ma come? Ma scusami. È volato via. Dai, costo... Costo mitra. Ok, è andato. È andato anche questo. Ne arriva già un altro. È il mio amico! Non riesco a prenderlo. Continuano a muoversi tutti e due. Troppo... Troppo male. Ok. Dai, su, 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 carica! Oh, meno male che il veicolo non ha la... Cioè, non ha vita, nel senso... Ha vita infinita, perché veramente... Guarda come va via. Non riesco a beccarlo. Non sti sto neanche cagando. Sto cercando... Ecco fatto. È male, quindi. Ok! Action! Ma c'era il tipo che voleva la foto. Oh, c'era il cameraman. Volevo distruggerli. Distruggerli. Volevo sparagli. Jayana? Ma ti stai zitto un po'. E' il direttore. È il direttore o no. Non lascia il cammino. Trattami. Allora, riuscire a fare questo ancora. No, volevo sparare i tipi. Finita la missione? No, è ancora qui, eh. E meno fare schifo. Ma dai! Licenza poetica. Joe! Cosa stai facendo? Stai a fare le camera. Siamo provando qualcosa di nuovo. Oh, 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 sì! Vedo cosa stai facendo. Prima! Siamo con questo! Sei sicuro che questo sia una buona idea? Non dovresti studiare per te stesso. Non sono sicuro che posso fare questo. Anche con il modo che mi trattava. Voglio far saltare la pompa di benzina. E uno è andato. Due è andati. Forza! Venite a me allora. Ce ne mancano solo otto, dai. Ora ce ne mancano solo sette. Credo che abbiamo perduto loro. Qui sono! Guarda quello! Cos'è? Ah, dei motorini spaziali. Guarda quelle esplosioni! Perfetto. Ecco, vai! Yes! Primo contatto. Be' sicuro ora! Onward! Onward! That's the wrap for today! Amazing work for most of you! Not naming names. Because, uh... Ma dai! I forgot your names because you are worthless. Now get off my set! Che stronzo! Che stronzo, mamma mia! Comunque, due obiettivi completati. Mica male! Quanti soldi abbiamo guadagnato? Spero un pochino. Più veloce, più intenso. Ottomila dollari. Speravo un po' di più, però... Dai, anche a diri rispetto. Gli alieni spaziali possono far parte della tua gang. Wow! Sono Marty McFly. E lei, poliziotto, è un bravo poliziotto. Vediamo se ci ho guadagnato qualcosa di soldi. 65 mila dollari. Mica male. Tra l'altro, la volta scorsa, non mi hanno dato l'obiettivo, quello lì, di avere tutte le armi al massimo livello. Credo che non mi conti la motosega, perché la motosega non ha un livello. Quindi vorrei provare a prendere l'unica arma melee che si può livellare, ovvero la mazza da baseball. Che è anche l'unica arma che non avevo ancora comprato. Quindi, tieni e ecco te. Vediamo. Appunto. Però, voglio la mia spada, che è bellissima. Sai che io potenzierei anche qualche altra arma? Però forse in realtà è meglio... No, è meglio se potenziamo un'arma. Perché stavo per dire la frase. Forse è meglio se ci prendiamo i potenziamenti. Però se potenziamo l'arma, in questi casi, tipo... Ah, è vero, c'è anche questa. In questi casi, per esempio, stiamo registrando con sta... Sto mitra qua. Averlo potenziato sicuramente schifo non ci fa, no? O tipo, i fucili della Steg, mi ricordo che non li potenziavo mai. Perché non mi piacevano alla fine. Però, per esempio, questo. Può essere utile potenziarlo. Beh. Potenziamola al massimo. E potenziamo anche questi. Ecco fatto. Ogni tanto ci sta a cambiare qualche arma, no? Però il fucile a pompa, quasi quasi. Prendo questo qua della Steg, dai. Giusto per cambiare e avere qualcosa di diverso ogni tanto. Quindi, signori. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vaко a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.